Al Bindi di Pietracuta si recupera la gara numero 29 stagione, posta in paio altissima, però la De Duca ribelle ci attende solo il punto della matematica certezza dei play-off, ma con una finalissima di Coppa Italia da giocare, probabilmente al 25 aprile, mentre per il rosso blu di casa il successo rappresenterebbe il primo passo verso la quasi certezza della salvezza. Fa ripuntata anche sul classe 2003 Edoardo Bernardi appartenente al Pietracuta, in tribuna per lui presenti osservatori della Sampdoria, dove siano invece quelli del Rimini e un mistero, 20 km di distanza forse rappresentano una scalata insormontabile per un talento vicino a casa, battuta che ci sta visto che un altro calcio è davvero possibile. A De Duca ribelle si presenta l'appuntamento con diversa assenza e non a casi il tecnico montanari non si nasconde. Non sto neanche, come dicevo prima della partita, anche con Daniele, a parlare dell'assenza, perché anche se ti mancano tanti giocatori, fare una prestazione del genere non ha scusanti. Il Pietracuta culla il suo gioiello attraverso le parole del dirigente Alberto Podeschi, al microfono a fine gara del nostro Renzo Baldisserri. Bernardi, sì, Edoardo, per noi è prima di tutto un orgoglio, perché è figlio di Pietracutesi, suo babbo è stato per tanti anni un nostro giocatore, anche nella dirigenza, e quindi ne siamo veramente orgogliosi. Ovviamente deve essere bravo adesso a fare un passo per volta, a giocare sempre con la massima umiltà, cosa che fino adesso ha fatto, e poi quel che verrà si vedrà. Calcio d'avvio ha affidato ai padroni di casa, che senza timore si gettono subito in avanti, con due corner che portano ai tentativi di Fabri. Nell'ordine, con la prima sventola deviata a un po' tornamento in corner, nel secondo caso, invece, dopo una sequenza di colpi di testa, la volete centocampista termina alle stelle. È sempre il numero 11 a mostrarsi maggiormente al tiro, in questo caso chiama la presa a terra a Teodorani. Ma la gara si sbrocca a minuto 12. Il passaggio centrale di Baronio viene appoggiato malamente all'indietro da Zofoli, permettendo a Fratti, ben appostato, di inserirsi e di presentarsi davanti a Teodorani, il quale in uscita viene scartato a numero 9 e infilato con buona pace anche di Taglioli e Mazzarini, che avevano tentato un recupero al limite dell'impossibile. Corra Fratti, sulle ali dell'entusiasmo, apre per Fabri, cui Traversone viene agganciato da Bernardi, che non riesce ad imprimere la forza necessaria per battere a Teodorani. Lo stesso numero 7 si ripete quando intercetta la sfera con una girata che fa gridare a gol il pubblico presente al Bindi, sfera fuori di un nulla. Ad Educa Ribelle ci fa vedere solo dopo un 25 minuti di gioco questo tiro cross che termina a lato, mentre Pietracuti contro il piede prova a chiudere il match. Tanni va via all'avversario involandosi verso l'area di rigore. Una volta penetrato il suo tiro cross viene intercettato a Teodorani, che evita pericoli maggiori, con la difesa che chiude anche su Bernardi. Ma il talento in maglia numero 7 va a prendersi di rigore qualche minuto più tardi. Mazzarini frana su di lui in piena area di rigore, come ci mostra anche Le Prey. E per Carlini, dice Sena, non ci sono dubbi. Si trattasi di penalty, dagli 11 metri fratti Freda Teodorani per il 2-0 dei padroni di casa, speciale doppietta per il bomber rosso-blu. Ma quando il Pietracuti attacca, gioca che è uno spettacolo. Fabri allarga per Tanni, quest'ultimo appoggia la sfera fra lo sbarcato Bernardi, che calcia centralmente in bocca a Teodorani. La disperazione del classe 2003 in questo fotogramma riservato proprio a lui. Ci prova anche Tanni, servito sempre da Bernardi, a recare un brivido a Teodorani. Mentre sull'ennesima ripartenza, Fabri cambia gioco dall'altra parte, dove lo smarcato Fratti addomestica la sfera, punta l'avversario. In questo caso si tratta del numero due Taglioli. Trando in area di rigore, con una serie di finte, arriva finalmente al tiro, che si stampa contro il legno alla sinistra dei Teodorani. Occasione su Pata. Dall'altra parte, l'unica vera palla-gol creata dalla ribelle arriva al minuto 46. Siamo in pieno recupero quando Nisi gira in rovesciata per la testa di Zital Cruz, ma gli Ardini si rifugia in corner. Squadra a riposo sul 2-0, con il primo piano riservato al direttore di gara, Carlini, della sezione di Cesena. Ad inizio ripresa, Zital Ciucca allarga per il nuovo entrato Mazzoli, che da posizione defilata calcia a lato. Da punizione battuta da Mazzarini, nasce l'appoggio finale di Dumitru in direzione Nisi, che di prima intenzione calcia il pallone, che riapre i giochi in un pomeriggio, dove la del Duca ribelle appare poco brillante. Il raggio di sole è rappresentato proprio dal gol ad opera del numero 11. La partita di Rivero si spegne qui. Primi piani meritati per le due panchine, con Montanari che spera in una rimonta e con Fregnani che appare più tranquillo. Spostiamo l'attenzione su Guardalini e Frisoni, ex arbitro, tra l'altro ricordiamo in prima categoria tre stagioni fa, e sull'alto assistente Luciani, entrambi della sezione di Rimini. Sul ritmo di gioco non arrivano emozioni, il cronometro segnala la mezz'ora della ripresa quando Fabri dalla distanza non incide come vorrebbe, e quando a 34-15 a Mularoni viene annullato un gol per posizione di offside. Nel finale arriva anzitempo l'allontanamento dalla panchina del dirigente Alberto Podeschi, e il triplice fischio finale che sancisce la fine della gara con il De Ducaribelle che rimane a 10 punti di distanza dal Ronco e del Weiss, e col Pietro Acute che invece sale al decimo posto in classifica, scavalcando in un colpo solo Torconca, frataterme e di Giamarina, appaiando da stasera il San Pietro in vincoli. Passiamo ora a sentire le dichiarazioni di fine gara raccolte dal nostro Renzo Baldissetti. Mister, una partita diciamo al di sotto delle loro possibilità? Molto di sotto, è stata la più brutta partita che abbiamo fatto negli ultimi due anni. Di scusanti sento dire Massa è giocando ogni tre giorni, non mi interessa, sono cose che dobbiamo essere preparati. Pensavo di aver preparato la squadra in maniera giusta, invece probabilmente non l'ho fatto, quindi l'errore è mio. D'altronde le difficoltà dopo si amplificano quando incontri una squadra che ha motivazioni più grosse delle nostre oggi, ed è sbagliato, perché anche se magari i punti di oggi erano più pesanti per loro che per noi, abbiamo trovato una squadra che era pronta a giocare, ha fatto una gran partita, ci ha messo sotto, la vittoria è indiscutibile, hanno meritato loro. Non dobbiamo guardare quella cosa lì, dobbiamo guardare tutti gli errori che abbiamo fatti. Ti dico che da qui a domenica è duro di analizzarli tutti, perché li abbiamo fatti tanti, 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 tanti. 8-5 in gara alla fine, comunque manca quel ponticino per la matematica, secondo posto e play-off. Sì, è l'unica cosa positiva andando a casa di oggi. Quando vado a casa devo pensare solo che è rimasto un punto per arrivare matematicamente nella finale di play-off, ma ripeto, è l'unica cosa positiva che c'è nella partita di oggi pomeriggio. Alberto Podeschi, dirigente del Petracuta, prima di tutto, come è stato il suo allontanamento? Il suo allontanamento? Io ho richiesto semplicemente, siccome era già successo all'inizio del secondo tempo, che Fratti aveva ammesso di aver toccato a lui, io mi sono alzato e ho detto, se sei onesto, lo dici anche te, l'arbitro probabilmente mi ha visto in piedi, ma c'è niente di che, insomma, non era successo niente, però avendomi visto in piedi e nel gran casino di urla che c'era, probabilmente, insomma, mi ha deciso così. Veniamo alla partita, tre punti importanti per uno salvesta? Sì, sono tre punti molto importanti, perché ci permettono di fare un balzo in avanti molto grande, perché nella lotta salvezza sulla quarta, quinta e sest'ultima posizione ci sono molte squadre in pochissimi punti e quindi ogni punto guadagnato può essere decisivo.